Noi siamo assolutamente certi di vincere le elezioni, quindi abbiamo solo un dato scaramantico e matematico e poi lavoriamo da oggi, lo dirò chiaramente, per vincere al primo turno. Questa notte non ho dormito proprio, perché avvertivo il senso e il peso dell'importanza di questo giorno, perché non era scontato che io mi ricandidassi a fare il sindaco di Napoli, perché sono stati cinque anni molto duri anche sul piano personale, molto difficili, complicati, si è lavorato 18 ore al giorno, abbiamo avuto tanti problemi, tanti ostacoli, quindi ci ho riflettuto molto e quindi oggi avverto molto l'emozione, il senso di responsabilità è il momento secondo me del consolidamento di una svolta che segnerà una pagina importante per Napoli e per il mezzogiorno e credo anche per il nostro paese. Noi non siamo una squadra che ha un recinto chiuso, le liste si depositano il 7 maggio, io sento tante anticipazioni e tante cose, io prima di depositare le liste dobbiamo guardare uno per uno tutti i candidati, casellari giudiziari, carico pendente, autocertificazione molto rigorosa e nei casi dubbi analisi del sangue, nelle liste tema non ci sarà nessun candidato iscritto alla massoneria, almeno che ne siamo noi a conoscenza chiaramente, quindi questa è la nostra posizione, per il resto non avremo impresentabili, ma non vi meravigliate se nelle mie liste non ci siano persone che siano tutte della stessa ideologia del sindaco, perché noi dobbiamo vincere al primo turno e per vincere al primo turno dobbiamo non avere camorristi, non avere persone legate con la camorra, non avere impresentabili, non avere corrotti, non avere delinquenti, avere persone pulite, ma non sarà il recinto del centro-sinistra, il sindaco è un uomo di sinistra che garantisce gli equilibri della coalizione, parla a tutta la città e come tutti i grandi movimenti di liberazione che la storia ha conosciuto non sono movimenti di una parte, noi abbiamo messo in campo un movimento popolare che attraversa l'intera città, quindi l'intera città significa che nelle nostre liste sarà rappresentata la città, il che non significa che ci saranno persone che si ricicleranno politicamente, ma se ci sono persone che sono convinte del programma di De Magistris e che nel passato hanno avuto anche esperienze moderate, esperienze di altro tipo, saranno, dopo quelle analisi del sangue che abbiamo detto prima, saranno accolte nelle nostre liste. È un programma sostanzialmente, per dirla sinteticamente, di continuità, cioè continueremo quello che abbiamo iniziato, allargheremo la squadra, metteremo in campo tantissime iniziative, soprattutto in favore delle persone più bisognose, e nei quartieri che ancora non hanno avvertito fino in fondo il segno e il senso del cambiamento del nostro progetto politico. Ieri abbiamo approvato molte delibere, una importantissima a cui teniamo tanto è sul reddito minimo di cittadinanza, che è una cosa importantissima, storica, per la città di Napoli. Lo hanno sempre fatto, hanno annunciato di farlo le regioni, lo fa il Comune di Napoli. Abbiamo messo in sicurezza i lavoratori di Terme di Agnano, ma ieri abbiamo approvato una delibera che consente di assumere nell'organico del Comune di Napoli, nella Polizia Municipale, 132 poliziotti municipali. Comincia un'avventura entusiasmante, direi finalmente.